33 cantanti da tutto il mondo saranno in gara a Camaiore al Teatro dell'Olivo per il concorso lirico Trofeo La Fenice. Oggi la selezione, domani sera con un inizio alle ore 21, una finale aperta al pubblico con l'esibizione delle 12 migliori voci con la direzione artistica di Roberto Tommasi. Ed ora apriamo la pagina dello sport.